3 secondi alla conclusione del primo quarto, 0-9 per la Civova, Stephens attacca Borra, la pinta, ancora! Sfida Lupusor, serie di crossover, prova ad attaccare il centro, arriva la... Questo frangente in Scafati, ora Stephens attacca Borra con un arresto e tiro! Penetrazione, con Stephens che tira da 3, arriva con la scelta, arriva la scelta di Stephens! Treviglio, visto che era recuperati solo 2, dall'angolo Stephens, la triple! Da un bel pallone arrossato che trova libero, passaggio schiacciato per Tommasini, palla nell'angolo per Stephens! Ecco ancora subito la palla sotto per Stephens che poi viene quadruplicato! Ci sono azioni molto... è il momento di mettere dentro di nuovo Elmore e c'è un bel... Alla fine, in tutto questo Freyser, palla ancora per lui, palla bella per Stephens che si avvicina e segna! Per... ...Cappelletti! Buon alto passo qui! Che gioca con Stephens che attacca Bacher, giravolta di Stephens! ...di più delle sconfitte, peraltro arrivate anche in maniera rocambolesca! Il bellissimo movimento! Parla Stephens, Stephens marcato da Mobbio, attacca il ferro, si fa beffe di... ...della gara, ci ama il blocco di Seic Mascolo, poi va a servire! In avvicinamento per Sherrod, Sherrod che prova ad andare, stoppato! Tommasini, per il fallo... Elmore, veramente un altro grandino, purtroppo scappato! Freyser, più nel fondo, in questo caso sbaglia, rimbalzo stavolta per Stephens che segna! ...di vuole l'isolamento il giocatore americano che ha dimostrato prima di andare in avvicinamento molto bene, va anche in questo caso Stephens! Invece quando si è trovato da solo ha sbagliato! Ora Freyser, mette palla per terra, il tiro con la Leop, molto bello! ...per la formazione bianco-blu! Rossato gioca con Stephens, che attacca Borra, fino in fondo! Posizione velocissima, Freyser cercando di Stephens in post-bastro, buona la difesa di Licepici, schiaccia qua! Cercistia con la palla, James va attaccare la stocca! Tommasini, passeggia sull'arco, la mette nelle mani di Stephens in post-bastro, descia un ciclo! E' un uno contro uno, va fino in fondo! ...in angolo, il strapesso volante di Carroll, Zugno... L'ex giocatore di Riedi... ...e fa saltare... ...ormai consolidato Stephens intanto... ...llo scadere del primo tempo Stephens... ...scafati Biella, subito Polite in attacco per Biella, arriva la... ...la linea è sporcata da Stephens, arresto il tiro di Pepe... ...attacca il fondo... ...la mette... ...novo Tommasini, si chiude del triangolo per Stephens che può attaccare sull'intera canessa... ...toppio blocco per Portanese, buono il cambio di Cepic... ...Stephens che attacco già molto importante! Freyser, il blocco di Stephens, Freyser a buttarsi dentro! ...e segni a Stephens!